...hanno portato, hanno alzato l'età pensionabile a 65, quindi alcune gravi stortubole ci sono, però hanno continuato ad assumere, alcuni ministeri hanno continuato ad assumere le persone e questo è stato il fatto che... Ecco, scantilismo, da noi la spesa corrente continua a salire, hanno stato le promesse e loro continuano a fare l'assunzione... ...invece vogliono che si vada a un blocco, i dipendenti pubblici in Grecia si...